Nei giorni scorsi il quotidiano La Nuova Venezia ha ospitato la lettera del Cavaliere Alessandro Penzo, già responsabile del comitato cittadino del quartiere Tombola, che puntava il dito contro il numero dei parcheggi assegnati all'hotel Scaldins sul canale Perotolo. A stretto giro, il gestore dell'esercizio Mike Carulli risponde attraverso le pagine di Chiorgia Azzurra. Mi occupo da un anno della struttura, dice Carulli, e ringrazio Alessandro Penzo per l'enorme sensibilità dimostrata riguardo del canale. La situazione dei posti auto definita incriminata non è tale perché essi sono stati regolarmente assegnati da permessi documentati, con i controlli di rito effettuati dalle autorità competenti. Per questi spazi l'albergo paga ogni anno una regolare tassa, ma a quanto pare al Cavaliere Penzo non basta, dal momento che ha, a sua volta, inviato i controlli. Come mai questo canimento? Si chiede Carulli. E come mai una persona così attenta ai problemi non ha ravvisato la presenza di decine di barche che non hanno titolo di sostare nel canale, proprio di fronte ai giardini del Duomo, o l'incredibile quantità di immondizie, i motorini e le bici elettriche che sfrecciano continuamente a velocità eccessiva, gli inquilini del Civico 36 che dalle finestre gettano di tutto. Conclude amaramente l'esercente. Se l'hotel Caldins dà fastidio, se la presenza di numerosi turisti che spendono nei locali e nelle attività del centro storico rappresenta un problema, va detto chiaramente e toglieremo il disturbo. Vorrà dire che il contributo all'economia del centro storico di Chioggia verrà dirottata su Sottomarina, dove gli alberghi sono da sempre ben accetti. Un incidente stradale si è verificato ieri sera dopo le ore 21 sulla strada Romea all'incrocio per Canal di Valle. L'automobile di una famiglia tedesca, a bordo c'erano anche due bambini, mentre usciva dalla pista dei go-kart per rimettersi in Romea dopo il passaggio a livello, si è scontrata con una Fiat Bravo guidata da un po' lesano, che da Sant'Anna stava viaggiando verso Chioggia. I danni ai mezzi sono stati notevoli e alcune persone risultano ricoverate. Sul posto si sono presentati i vigili del fuoco, la polizia e i carabinieri. Eventuali ulteriori aggiornamenti in seguito sul blog Chioggia Azzurra. Una gradevole sorpresa all'attere del campionato italiano di pesca sportiva che si sta svolgendo in questi giorni al largo di Chioggia. Un branco di delfini a poche miglia dalla costa ha salutato l'equipe del catamarano Comfort impegnato nell'organizzazione dell'evento durante la prova in mare dei luoghi di pesca. Non è la prima volta che i Tursiopi si avvicinano, anche di molto, alla città. Lo scorso inverno erano stati filmati alla lunata Frangiflutti di fronte alla diga di Sottomarina e un'altra volta nei pressi di quella di Caromang, mentre lo scorso anno erano stati segnalati alle foci del Brenta. La manifestazione sportiva andrà avanti fino a domani. Tutto esaurito per la diciassettesima edizione del Triathlon Sprint Chioggia, in programma domani nell'area dei bagni lungomare Sottomarina. L'evento quest'anno ha assunto il carattere gold, riconosciuto dalla Federazione Nazionale a quelle società sportive, come l'Associazione Delfino, che meglio organizzano e promuovono la disciplina. La gara è valevole anche per la Coppa Veneto e per il campionato italiano-asi di Triathlon Sprint. Gli atleti si cimenteranno in una competizione di nuoto in mare per 750 metri. Poi passeranno alla bicicletta per 21 km su strada chiusa al traffico. Infine i 5 km di corsa. L'inizio è previsto alle ore 13 e 15, ma già dalla mattinata sarà attiva la segreteria al camping adriatico. Premiazioni alle ore 17 e per chi non è riuscito a iscriversi, l'appuntamento è al 2018. In questo weekend il Consorzio di Promozione Turistica Lidi di Chioggia partecipa alla Bike Experience 2017 a Galzignano Terme, nei Colli Uganei. Si tratta di una manifestazione che promuove il turismo lento, specificamente in bicicletta, per il quale la domanda è crescente. La vacanza slow è vista come una scoperta del territorio, dove poter contemplare la bellezza dei paesaggi naturali, i patrimoni artistici e culturali, le tradizioni e la storia, non ultimo la gastronomia e il buon bere. Il ciclo turismo è da anni a pieno titolo nel trend dei nuovi modi di viaggiare, con una crescita costante, confermata dalla grande affluenza della Kermess già nel primo giorno di apertura. Chioggia, Sottomarina e Isola Verde si candidano a coprire anche questo segmento, come già stanno facendo. Buongiorno a tutti, sono Francesca del Consorzio di Promozione Turistica Lidi di Chioggia, oggi il Consorzio è ospite all'interno dello stand della Regione Vento, nella fiera di Galzignano, nel cuore dei Colli Uganei, la fiera del turismo slow e del turismo sostenibile, ovvero il ciclo turistico. Il Consorzio di Promozione Turistica promuove la nostra bellissima città, di Chioggia, Sottomarina e Isola Verde. La fiera è gratuita, quindi potete venirci a trovare al nostro stand, allo stand della Regione Vento. Vi saluto e vi auguro un buon weekend. Amici, buongiorno e bentrovati in questo sabato. Dunque, siamo all'inizio di un peggioramento piuttosto corposo, dovuto a una perturbazione atlantica con un'annessa discesa di aria fredda artica, che produrrà degli effetti vistosi nelle prossime 72 ore. La perturbazione è molto vasta, molto corposa, molto forte, innesca dei venti di ribeccio e di scirocco, che porteranno ovviamente molta piozza da qui a martedì. La situazione è piuttosto bilanciata, ma piuttosto particolare, nel senso che questa perturbazione, entrando dal golfo di Biscaglia, inserendosi nel mare terraneo abbastanza caldo, si involticherà a sufficienza da creare un minimo depressionario che lentamente traslerà verso i Balcani, una volta di martedì. Ovviamente, nelle nostre zone sarà un sabato piuttosto variabile di mattinata, ma che dispenserà anche qualche raggio di sole. Nel pomeriggio comincerà a coprirsi e verso sera, tra le 21 e le 22, cominceranno le prime piogge. Piogge che si intensificheranno durante la notte per divenire piuttosto diffuse e corpose nella giornata di domenica. La stessa situazione si rappresenterà anche lunedì, quando questo minimo sarà posizionato tra l'Adriatico e il centro Italia e dispenserà ancora forti precipitazioni, soprattutto nella fascia centrale padana, parte appenninica e soprattutto la fascia pedemontana. Lì avremo la massima piovosità. Per quanto concerne le nostre zone, i venti saranno disposti da sud, quindi avremo temperature abbastanza elevate e non troppo calme, non troppo fresche, con un senso di umidità piuttosto forte. Le precipitazioni non saranno abbondantissime, ma avremo comunque, avrà luogo comunque anche a dei temporali e a precipitazioni piuttosto diffuse durante tutto l'arco della giornata di domani. Il maltempo, come ho detto, si estenderà anche alla giornata di lunedì per terminare grosso modo all'altezza di martedì mattina. Aspettiamoci anche una puntatina di alta marea tra domani e lunedì, tra i 100 cm verso le due del pomeriggio domani e 105-110 per lunedì pomeriggio verso le tre. Una situazione dinamica, come vi ho detto, che darà luogo a una instabilità diffusa anche per tutta la vostra settimana, quando avremo forse al massimo un paio di giorni di asciutto tra mercoledì e giovedì. Ma questa è una storia che ci racconteremo la prossima settimana. Quindi ben venga questo cambiamento, ben venga questa pioggia che tanto abbiamo bisogno, ma probabilmente creerà anche dei disagi e dei problemi in alcune zone dove questa pioggia sarà veramente eccessiva. Non mi resta che augurarvi un buon sabato e ci sentiamo domani.